Dopo le parole a caldo al microfono di Telefoggia di sabato scorso, Sandro Ciccone è tornato a parlare su quanto accaduto sei giorni fa al Palazzetto Russo, ovviamente a mente più fredda. E lo ha fatto nella trasmissione sempre della nostra emittente, Sport di Capitanata, di Alessandro Affatato. La vicenda è quella della mancata disputa della gara della terza giornata di campionato per il Cus Basket Foggia contro Lecce che con Castellaneta è una delle squadre meglio costruite per vincere il torneo. C'è ancora, a distanza di una settimana, molta rabbia per quanto successo, ha detto il coach Foggiano durante la trasmissione, sottolineando anche che la società ha pensato bene comunque di avanzare lunedì scorso una sorta di ricorso, ancora però senza aver detto, poiché la stessa misurazione dell'altezza di uno dei due canestri da terra è stata effettuata, secondo il Cus Foggiano, in modo abbastanza artigianale con mezzi non tecnicamente idonei. Puntiamo a rigiocare la partita, ma metto in preventivo la sconfitta a tavolino, una risposta negativa da parte del giudice, a cui noi poi faremmo ricorso, ha precisato ancora Ciccone. Mi dispiace troppo per i miei giocatori, per il lavoro fatto nella settimana precedente, che non è servito poi a nulla, ragazzi che ci tenevano molto a quella partita, a tal punto da chiedermi quella stessa sera di allenarsi ugualmente anche dopo un match rinviato. Ora sarà importante il lavoro a livello mentale sulla squadra, riprendere il filo dell'ottimo inizio di campionato fatto registrare con due successi di fila dalla squadra foggiana. Per quanto riguarda i disponibili per la prossima gara di domenica contro Potenza, ad oggi ci siamo tutti, ha aggiunto Ciccone, tranne Palmucci, infortunatosi. Quello del Cus è un girone di Serie C molto duro ed equilibrato, si può vincere e perdere dovunque e con chiunque l'obiettivo stagionale è il raggiungimento della salvezza. Il motivo di vanto per Ciccone è di avere da tre anni una ossatura, un roster composto tutto da ragazzi di Foggia ed un paio della provincia, uno di San Severo e l'altro di San Giovanni, tranne l'abruzzese Palmucci di Roseto ed il senegalese Seie. Lo stesso buo è di Rimini, ma nonni, genitori e fratelli sono tutti foggiani.